Il piano operativo è in questo momento all'attenzione sul sito della Regione Molise di tutti gli stakeholder che possono scrivere, possono argomentare, possono osservare. Non è stato ancora assunto, verrà assunto dopo che si saranno raccolte le osservazioni, o meglio, si saranno raccolte le osservazioni, ci aspettiamo che arrivino osservazioni, che istruiremo e le manderemo ai tavoli ministeriali. È chiaro che il piano operativo ha la necessità di essere messo all'attenzione al territorio, ha la necessità di un confronto col territorio. Siccome non potevamo incontrare 296 mila molisani, è un po' complicato, l'abbiamo messo all'attenzione al territorio, non è stato ancora assunto il decreto del commissario ad acta che lo rende ufficiale, che lo rende atto amministrativo, aspettiamo le osservazioni. Il 24 si chiude il termine, la finestra, anche se non è una finestra perentoria. Cioè chi gli chiede di revocarlo? Non si può revocare un atto che ancora non esiste. Il DM 70 oggi è in revisione, l'attività politica deve andare verso la revisione del DM 70. Il commissario, in quanto commissario, non può rivedere il DM 70, lo deve applicare. Il presidente di regione, le delegazioni parlamentari e i rappresentanti del governo invece possono spingere per il cambiamento delle regole.